Renato Curi e Nereto si affrontano per la ventesima giornata del campionato regionale di eccellenza. Entrambe le squadre vengono da una striscia di sei risultati utili consecutivi, dove entrambe hanno raccolto dieci punti. Ma partiamo subito con le immagini di Mario Giacchetta. Si parte subito al quinto minuto con la punizione di Cerasi, bloccato dal portiere di casa Abate. Brivido per i tifosi di casa al minuto 17 con Dalonso, autentico baluardo della difesa angolana. Bizzarri al minuto 23 ha lanciato Dandiae, Cicca clamorosamente manda la palla sul fondo. Al ventisettesimo ci prova Casati che impegna Di Giuseppe, ma il numero uno del Nereto si dimostra prontissimo. Clamorosa occasione da gol per la Renato Curi al minuto 39. Ndiae lanciata a rete a tu per tu con il numero uno. Ospite solo come ostacolo sbaglia clamorosamente mandando la palla alla sinistra del palo difeso da Di Giuseppe. Ma il numero 10 di casa si fa perdonare dopo appena 60 secondi con lo splendido stop di petto e il passaggio per il compagno di reparto Bizzarri che con freddezza batte a rete e sigla il vantaggio. Al quarantatreesimo minuto c'è la possibilità del raddoppio su azione di calcio d'angolo. Questa volta la sponte di Bizzarri che vuole ricambiare il favore per Ndiae ma la sua conclusione termina alta. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa vogliono chiudere subito la gara. E vanno vicino al gol al secondo minuto con Ndiae che prova la conclusione. Mia viene respinta da Di Giuseppe. Nuovamente il numero 10 si avventa sulla sfera ma viene esteso per il direttore di gara il signor Cavacini di Lanciano. Non ci sono dubbi. E calcio di rigore. E' sempre Ndiae che vuole siglare il raddoppio. Prende la sfera e la posiziona sul dischetto ma la sua conclusione non perfetta viene fermata da Di Giuseppe. Autentico pararigori di questo campionato. In questa seconda parte di gara il Nereto fa tanto possesso palla ma sono poche le azioni da gol. L'unica vera occasione al diciattesimo minuto con Lazzarini che sfiora il pari con questa conclusione che si perde di pochissimo a lato. E allora la Renato Curi angolana dopo lo spavento prova a chiudere la gara al ventiduesimo Pompei e fermato da Di Giuseppe. Al quarantasesimo minuto in pieno recupero Ruggeri lanciato a rete solo di fronte a Di Giuseppe viene steso appena fuori l'area di rigore dal numero uno ospite. Per il direttore di gara solo cartellino giallo. La gara si chiude qui con quest'ultima emozione il calcio di punizione che termina sul fondo e con i tre punti preziosi per la Renato Curi angolana che sale a quota 26 in classifica. Grazie mille. Praticamente non abbiamo preso un tiro in porta con una squadra secondo me molto forte, soprattutto li temevo davanti perché erano dei giocatori importanti. La squadra mia ha interpretato al meglio quindi se facevamo il rigore la partita era chiusa prima.